Nome? Daniele. Cognome? Giuliani. Benvenuto a TG Turismo. Grazie. Data di nascita? 06, 10, 1900. Sesso? Sì, c'è ogni tanto. Maschio? Segno zodiacale? Bilancia. Che lavoro fai? L'attore prestato al doppiaggio. Chi doppi? Il film porno no. Il primo personaggio che hai doppiato? C'avevo tre anni e facevo un bambino che piangeva. Il personaggio più difficile che hai doppiato? Felix di Aggiustatutto Felix che era un personaggio di Ralph Spaccatutto. La parola che ti mette in difficoltà a leggio? Non la so dire, vabbè. Preferirei. Bravo. Grazie. La tua serie preferita? Prison Break. Il regista che preferisci? Christopher Nolan. Parliamo del trono di spade? Sicura. Chi doppi nella serie? Jon Snow. Qual è il tuo personaggio preferito? Tyrion Lannister, il nano, quello con la cicatrice. Perché? Perché è molto importante. È molto intelligente. E poi è un embriagone. È simpatico. Tre aggettivi per Jon Snow. Bamboccione. Romantico. Illuso. Povero. La scena più difficile che hai doppiato nella serie? La scena del provino. Ero emozionatissimo. Non ci capivo nulla. Sudavo. Vicente a me c'era il buon Gaetano Vargasia. Mi aiutava perché nel provino c'erano appunto Tyrion Lannister che ha fatto lui. e... e Jon Snow. Lui mi dava le gomitate e mi diceva attento qua c'è questa cosa, fai questa cosa meglio. La barriera mi ha sempre incuriosito. Sei Tyrion Lannister. L'altro fratello. Arguto. I miei complimenti. Tu sei il figlio bastardo di Ned Stark. La scena più bella? La morte di Ygritte. Avresti sposato Ygritte? Qual è la battuta di Jon? Mi chiedono tutti di dire L'inverno sta arrivando. Ma io non l'ho mai detta. L'ho detta due volte nell'ultima stagione. Dicci l'inverno sta arrivando, va. L'inverno sta arrivando. Tu non sai niente Jon Snow. Ma che vuol dire? Non lo so. Cioè vuol dire che lui è un punto, un illuso. Crede di sapere tutto. In realtà non sa niente. So che non mi colpirai. Tu non sai niente Jon Snow. Dove andrebbe in vacanza Jon? In un posto al mare. Sa cucinare Jon? Oh, c'è proprio una trattoria. Da Jon il bastardo. Ci vanno tutti i guardiani della notte. Sta così venerdì sera, devi prenotare. Tra le location della serie dove andresti tu? Irlanda del Nord o Seviglia? Seviglia. La caliente Seviglia. Islanda o Marocco? Guarda, il Marocco ti vogliono vendere tutti gli angoli delle strade, quei braccialetti d'argento che non è vero argento. Invece in Islanda ci voglio andare. Dubrovnik o Scozia? Dubrovnik. Dove si trova il castello nero? Trono di spade. In Irlanda? In Irlanda, sì! Nella cava di Megaramorn. Ridillo? Megaramorn. Ah, bravo. E bravos? Grazie. In Croazia? In Croazia! A Sibenico? Sì, Benico. Cosa hanno girato nella cava? Jon e Igritte! Eh? No. No. Saluta Jon, va? Ciao Jon. Aspetta, ciao Jon. Salutaci come Jon Snow. Questo video sta arrivando. Ciao! Fai Serie? Grazie per la visione